Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi torniamo su un nuovo giveaway da parte di UmiDigi ovvero il nuovo UmiDigi X, il nuovo smartphone top di gamma di UmiDigi con il sensore di impronte sotto schermo Vediamo un po' velocemente le sue caratteristiche, dopodiché vi dico come partecipare a questo giveaway perché non solo potranno vincere l'UmiDigi X ma anche le nuove U-Pulse ragazzi Vediamo un po' le caratteristiche di questo smartphone Ovviamente sensore di impronte integrato sotto lo schermo Schermo che stavolta si tratta di un AMOLED, amoled da 6.35 pollici tripla fotocamera posteriore di cui la principale ha 48 megapixel la grande angolare da 8 megapixel e 5 megapixel per quella dedicata all'effetto bokeh ovvero quell'effetto che permette di sfocare lo sfondo e mettere più in risalto l'oggetto che abbiamo davanti Camera anteriore da 16 megapixel per selfie ad alta risoluzione Processore Helio P60, 128GB di memoria interna e 4GB di RAM Sarà presente l'NFC Android 9 Pie preinstallato e disponibile nelle colorazioni Questo blu tendente al cristallo eccetera eccetera e rosso con sfumature nere Allora come sempre Umidigi ci dà la possibilità di vincerlo Tutti i link vi ricordo che li trovate in descrizione Abbiamo 18 giorni Voi vedete 19 perché sto registrando un giorno prima Quindi nel momento in cui vedrete questo video sarà 18 Mancheranno 18 giorni Abbiamo la possibilità di vincere un Umidigi X Più le U-Pods Ovvero queste qua guardate sono bellissime Un po' più da Vici guardate che sono bellissime Sono effettivamente degli auricolari Bluetooth Un totale di 20 vincitori Quindi abbiamo la possibilità di vincere uno di questi 20 smartphone Per un valore totale di 5.400 dollari Veramente un casino Allora lo smartphone sarà commercializzato a partire dal 26 agosto Chi eventualmente vorrebbe acquistarlo sappiate che per i primi 1.000 ordini Riceverete comunque le U-Pods gratis Mentre per i primi 10.000 le U-Pods saranno scontate a sole 9.90 dollari Non appena il giveaway terminerà Il 26 agosto verrà fatto uno streaming video Direttamente sul canale YouTube di Umidigi E quindi verranno annunciati questi 20 vincitori Mi raccomando se partecipate non vi perdete la live Così magari potreste essere uno dei vincitori Ogni vincitore riceverà un Umidigi X E un'unità di U-Pods for free Quindi grazie ragazzi Tutto grazie Io faccio cose grazie Quindi maggiori entries abbiamo Più possibilità di vincita abbiamo Gli entries adesso li spieghiamo Li ho già spiegato praticamente in molti video Ma adesso lo rispieghiamo Praticamente le entries sono dei biglietti Avete presente la lotteria Quindi più biglietti avete Più possibilità avete di avere proprio il numero estratto Per racimolare biglietti Non dobbiamo fare altro che seguire tutto quello che c'è scritto qui E alcune anche più volte al giorno Ad esempio queste Quindi allora prima cosa iscriverci al canale youtube di Umidigi Quindi ci clicchiamo Clicchere Veniamo riportati direttamente al canale youtube di Umidigi Appare questo quindi vuoi iscriverti a Umidigi Iscriviamoci Iscrizione aggiunta Perfetto Quindi torniamo qua Continua E se tutto va bene Perfetto Abbiamo ottenuto due biglietti Ragazzi Abbiamo due biglietti Quindi nel momento in cui riceviamo i primi biglietti Già automaticamente parteciperemo al concorso Indipendentemente dal numero che riusciamo ad accumulare Poi Indovina quale sarà il prezzo di Umidigi X Al lancio il 26 agosto Quale potrebbe essere il prezzo di lancio E il prezzo ce lo fa direttamente a vedere Quindi che cos'è che dobbiamo indovinare Vabbè 225 euro Sarà venduto su Aliexpress Almeno Non appena arriverà su Amazon Probabilmente costerà qualcosina in più Va bene Ora che me l'hai fatto vedere Che cos'è che devo fare Che devo scrivere 225 euro Scriviamo 229 dollari Se mi fai vedere il prezzo però Va bene Continua Forza Ho indovinato Dammi i 4 Ok Ho ottenuto i 4 biglietti Facilissimi Facilissimi Il telefono che mi sono a casa Poi Aggiungi Umidigi X Al carrello di Aliexpress Altri 4 biglietti Aggiungiamo al carrello Allora clicchiamo qui Clicchiamo il colore rosso Con questa X rossa E' fighissimo Aggiungi al carrello E le informazioni mancanti Che c'è di manca L'ho cliccato Qua da Non perdiamo tempo Ok E' stato aggiunto un articolo Al tuo carrello Vediamo il carrello Vediamo se effettivamente E' stato aggiunto Forza Mi prendete in giro Che mi dite che fate le cose E poi non le fate E' stato aggiunto Va benissimo Lo lasciamo qui Torniamo al nostro giveaway Umidigi E clicchiamo su continua Vediamo se ce lo da Ce lo da Altri 4 biglietti per me E va bene E così via ragazzi Quindi aggiungi L'eupod Allora abbiamo fatto L'umidigi X Vediamo anche l'eupod Giustamente Che facciamo Che facciamo Discriminazione Noi discriminazione Non ne facciamo E qui effettivamente C'è qualche errore di prezzo Perché non credo Che siano vendute A 361 euro Mi sembra un po' strano Mi sembra un po' strano Comunque Aggiungiamolo al carrello Forza Aggiungiamo anche Mi sembra un po' strano 361 euro Va bene Il carrello Non vediamolo Perché sappiamo Che l'ha fatto Vediamo se mi danno I biglietti E i biglietti Ce li abbiamo Va bene Gli altri sono Seguire il canale twitter Diumidigi Twittare a Umidigi Su twitter Twittare su twitter Partecipare al giveaway Su Aliexpress Click here Ah ok Perché il giveaway È stato fatto Anche da Aliexpress Quindi se parteciperemo Al giveaway Anche fatto da Aliexpress Riceveremo Altri biglietti Ok Perfetto Donne Ma potremmo ritentare Fra 7 ore Quindi Ah quindi basta cliccare Il pulsante Riceveremo i biglietti Fra 7 ore Potremmo ricliccarci E così via ragazzi E così via Quanto più biglietti Accumulerete Tante più saranno Le possibilità Che verrete Estratti E quindi vincere Il nuovo Umidigi X E le nuove U-Pods Va bene Vi ricordo che Tutti i link Li trovate in descrizione Partecipate al giveaway Mi raccomando Tanto è gratis E potreste vincere Quindi questo fantastico Smartphone Mi raccomando quindi Lasciate un bel like Vi ricordo che potete Seguirmi anche Sulla pagina di facebook Twitter Insieme a tutti I altri social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E poi c'è tutto Al prossimo video E oggi siamo nuovamente Su Pennywise Ovvero It Finalmente È stato aggiornato È stato aggiunto Il capitolo 2 Non vedo l'ora Di farvelo vedere Allora Ho partecipato Alla traduzione Del gioco ragazzi Quindi adesso Abbiamo L'italiano Al prossimo video